Non ne puoi più di lavorare da casa? Ti consigliamo 5 posti in cui fare smart working gratis a Roma. Partiamo da Tomu, una libreria situata in via degli Etruschi, dove, oltre a una vostra scelta di libri, c'è uno spazio dedicato al co-working. Se prendi qualcosa a bar o se compri un libro, l'accesso è gratuito, altrimenti puoi restare quanto vuoi pagando solo 2 euro. Oltre a tavoli, bar, prese e connessioni wifi, c'è anche una sala dedicata a conferenze e presentazioni di libri. Insomma, noi ce ne siamo innamorati. In zona tra Stevere c'è lo Zalib, un altro posto che ci ha conquistati. È un centro gestito da un'associazione di giovani, a cui piace dire liberamente per studiare e lavorare. Ma per partecipare alle attività associative c'è bisogno della tesserarci. È un luogo che trasuda cultura e creatività da ogni angolo. Anche qui troverai un bar, prese, wifi e tanti libri, ma non solo. Ci sono pure un pianoforte e un tavolo da ping pong. In più c'è questo gattone bellissimo, guarda che tenero! Continuiamo il nostro giro in via Ostiense, dove troviamo il caffè letterario, un enorme spazio interculturale dove studio, lavoro, lettura e caffè si intersegano alla perfezione. Fare smart working costa 5 euro al giorno, nei quali è compresa una consumazione. Se hai bisogno di fare una call importante, potrai accedere a una sala più silenziosa. In piazza dell'orologio, a pochi passi dal lungo Tevere, c'è Essenza Verde, la prima libreria d'Italia dedicata alla canapa. A fronte di una consumazione, potrai lavorare in un luogo chic, moderno e alternativo. C'è perfino una poltrona sospesa con un pledo dove potresti accoccolare durante una pausa. L'ultimo posto, ma non per importanza, è l'Ex Circus, un bar in via della vetrina. Grazie a wifi libero, con una consumazione potrai metterti comodo e lavorare immerso in un'atmosfera calda e accogliente. Prima di andare, non dimenticare di lasciare un messaggio sul guestbook. Conosci altri posti fighi in cui fare smart working a Roma? Scrivcili nei commenti.